Si raccusa calcio, si è spento un sogno ma non la speranza. La speranza non è ancora finita, noi abbiamo fatto la richiesta alla federazione per poter iscrivere una nuova società al campionato di Serie D, così come è previsto dalle regole e dalle norme della federazione, ora aspettiamo che qualcuno ci dia una risposta per la costituzione di questa nuova società e di una nuova squadra che possa militare nel campionato di Serie D. Ho fatto un avviso in questo senso, ci sono stati dei contatti che ancora non hanno portato a nulla di concreto, speriamo che questi contatti possano diventare realtà nell'arco di pochi giorni e che quindi Siracusa possa continuare a militare in una serie che è più appropriata alla città stessa, alla città di Siracusa. Ma sindaco, perché è così difficile fare squadra in questa città per diventare vincenti? Ma guarda, io questo non probabilmente non le so rispondere a questa cosa francamente, questo è un fatto culturale, forse nostro, che siamo un po' troppo individualisti, non lo so.